Siamo Angor. Angor. Perché ieri è un Angor. Pre-Angor. Sì, questo è angoriano. Dall'ottocento fino a 1400, 600 anni. Angor, la capitale. Il tempo è diverso, no? Ieri sono tutte le torri di Mastuoni. Questo è il nostro tempio. Solo noi. Solo noi. Ci siamo stasso? Sì. Sì, questo è il monastero. Sì, questo è tutto dopo. Quando abbiamo trovato un sito. Sì, questo è vicino. Sì, questo è il monastero. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.